Più colore, meno inquinamento e più coesione sociale. Quello del murales nel sottopasso di Via Rossi nel quartiere di Pantano non dipinge solamente una parte della città, ma cerca di trasmettere valori contro ogni genere di intolleranza e discriminazione. Il filo di Arianna, il titolo che dà nome al murales, oltre a rappresentare l'unione di tante mani che si stringono tra loro, è stato realizzato con una vernice anti-smog in grado di trasformare gli agenti inquinanti in sostanze innocue. La street art, a differenza di opere un po' più astratta, deve essere diretta, parla al popolo, quindi deve essere compresa da tutti. È per strada, migliaia di persone la vivono ogni giorno, quindi il messaggio deve essere comprensibile. Credo che delle mani diverse che si uniscono, in segno di unione, di congregazione, possa essere in un certo senso diretto e si racconta un po' da solo. È facile capire che è meglio stare uniti che separati, che è meglio tenersi per mano che utilizzare le mani per la violenza, non so, specialmente in un periodo delicato come questo. Il significato può essere anche intercettabile attraverso lo smartphone, perché c'è un QR code, quindi magari attraverso l'identificazione del QR code si può scoprire la storia dietro a quest'opera. Sì, il QR code appunto ricollega un sito, un portale, dove c'è sia tutto il racconto dell'opera, ma anche il dietro alle quinte, il backstage, i giorni di lavorazione sono stati tutti ripresi. C'è un reportage vero e proprio di quello che è la nascita, dal concetto fino alla fine della realizzazione del taglio del nastro. Non abbiamo voluto commissionare un'opera semplicemente a un artista, ma l'abbiamo voluto accompagnare dentro un gruppo di lavoro, dei compagni di viaggio. Quindi, oltre allo sponsor che ha creduto tanto in questa iniziativa, cioè JTA Italia, abbiamo coinvolto oltre all'amministrazione i papà per scelta, Carlo e Cristian Di Florio, abbiamo coinvolto i Pensieri e Colori di Milano, abbiamo coinvolto i nostri volontari di Save the Planet e abbiamo creato insieme a Archie Gay un gruppo partecipato di persone. Tutto questo ha generato un filo tra noi. Questo filo è piaciuto tanto anche al Writer, e l'ha fatto diventare il filo di Ariane con la Schwa, un filo che ha unito tanti cuori nel creare un'opera come questa e che speriamo possa anche aprire le menti di tutte le persone che passeranno davanti a quest'opera. È un'opera dedicata all'amore, all'amore senza confini, è un'opera contro ogni forma di discriminazione, molto bella e al tempo stesso con questo impatto sulla sostenibilità molto forte grazie alla pellicola che è stata messa che attrarrà CO2 e sostanze inquinanti. Una bella collaborazione con GT Italia, la prima che abbiamo fatto, spero che possa continuare in futuro, ed è un altro tassello rispetto a questo percorso museale, direi, di street art che abbiamo costruito in questi anni e che sarà un elemento centrale anche della capitale italiana della cultura. Però non ci fermeremo qui, andremo avanti anche nei prossimi anni e vorremmo rendere Pesaro sempre più anche un luogo dove tanti artisti potranno sperimentare la loro creatività rendendo Pesaro ancora più bella, ancora più moderna, ancora più accogliente. Dobbiamo veramente nei prossimi anni ripensare al modo di costruire, al modo di fare urbanistica per riuscire in un qualche modo anche nel nostro piccolo a affrontare quel problema importante del cambio climatico che sta diventando sempre più evidente a tutti. Grazie a tutti.